La polizia di Ragusa con l'operazione Plastic Free ha acceso i riflettori sul settore del riciclo della plastic e ha stanato un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico illecito di rifiuti aggravato. Tre reati contestati, l'estorsione pluriaggravata, l'illecita concorrenza con minacce, le lesioni aggravate, la ricettazione, la detenzione del porto di armi da sparo e il danneggiamento seguito da incendio. Tra i 15 arrestati c'è Claudio Carbonaro di Vittoria, reconfesso di oltre 50 omicidi, poi collaboratore di giustizia, tornato in libertà 4 anni fa. Carbonaro, secondo l'accusa, stava riorganizzando il clan con strategie imprenditoriali, puntando sullo smaltimento della plastica delle serre. In manette anche Giovanni e Raffaele Donselli, padre e figlio, titolari dell'azienda Sidi. Le indagini erano cominciate nel 2014, in seguito ad un sequestro di calzature contenenti materiali nocivi per la salute. Era stata ipotizzata l'esistenza di una organizzazione dedita al traffico di rifiuti plastici, acquisiti da imprese di raccolta e stoccaggio delle province di Raguse e Catani ed esportati poi in Cina. Qui venivano utilizzati per la fabbricazione di scarpe, poi importate in Italia e commercializzate, pur contenendo per i magistrati sostanze tossiche. Grazie a tutti.